parleremo appunto del trattamento open dell'istabilità di spalla quali sono gli spazi nel 2021 sappiamo che i pazienti che hanno più probabilità di avere una lussazione dopo una riparazione artroscopica di lussazione anteriore di spalla possono essere identificati preoperatoriamente in base al sesso età e al tempo intercorso dalla prima lussazione alla chirurgia questo borcellini lo aveva già pubblicato nel 2009 la letteratura precedente quindi era a favore della chirurgia open per i soggetti ad alto rischio di recidiva a tale proposito ballo ha ideato l'isiscore che comprendeva alcuni parametri come l'età più o meno di 20 anni il grado di sport praticato ricreativo competitivo il tipo di sport contatto o no l'iperlassità o no l'izzax visibile o no in rotazione esterna e la perdita del contorno osseo glenodeo visibile nella radiografia anteroposteriore mentre la stabilizzazione open continua ad avere un ruolo nella gestione della stabilità glenumerale grazie a tutti grazie a tutti